Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo è il mio primo video, mi chiamo Obsidian Maker e sono un nuovo youtuber Vi voglio far vedere un pochino come io gioco a questo gioco che appunto è Brawl Stars E voglio divertirmi un po' con voi, quindi iniziamo Facciamo una partita in supervivenza con Carl Uno dei miei brawler preferiti Anche se l'usso sarà un po' male, più o meno Cercherò di distruggere stecca Eccolo E intanto cercherò di distruggere appunto un po' di casse Cercando di appunto vincere, ma quando mai? No, stava laggando, no vannaggia, il lag è il nemico più letale di sempre No, no, ce l'ha con me, ce l'ha con me, ce l'ha con me Stecca non rompere pure il cavolo Grande stecca, mi aiuti E nita però me lo fa apposta Nita, dai, ma non rompere pure te, nita, dai Tutti contro di me, grazie al cavolo che perdo Spero di non aver perso niente Ed è già qualcosa Ma ovviamente sono stupido Allora Facciamo un'altra partita Ma stavolta proviamo a farla con Colt che so manovrarlo un po' meglio Allora Speriamo che stavolta riuscirò a manovrare un po' meglio Le persone O i brawler che uso Adesso c'è Dynamike È facile distruggerlo per me Surtutto perché vedo che non è proprio bravo Anche se mi ha fatto un po' di danno Ma almeno ho preso la sua energia Quindi Adesso Cerchiamo di Uh, mentre nita si occupa di quello Io fra un po' li rubo Li si irra nita Cerchiamo di distruggere Cassi Intanto che Nita Deve purtroppo Combattere il mostriciattolo Allora Io direi Che spero di vincere almeno questo Così farò vedere che io in realtà sono molto bravo Non sono scarso come quell'altra partita che ho fatto Per esempio adesso sto andando molto meglio E che quanto pare nita è quasi morto Quindi È qualcosa di buono Se l'ha preso con me il mostriciattolo E ora ce l'ho io Uggione è morto Uggione è morto Uggione è morto Uggione è morto Nooo Sono morto E quindi Ha vinto Barrel È stato un peccato Ma come avete visto Non ho fatto proprio una brutta figura Come prima E possiamo anche aprire una cassa Che io aprirò anche volentieri Quindi con la fortuna del principiante O intermedio O qualunque cosa sia Io apro la cassa E non trovo niente E neanche un bonus E niente quindi Ho fatto schifo Però continuiamo Voglio cercare di portare Colt Al grado 10 E ci proverò E ci proverò Uh C'è stecca Non mi sembra che stia giocando Quindi No stava giocando Per bene ragazzi Come avete visto Io faccio schifo In ogni caso Dopo il pezzo lo taglio Capito In ogni caso Adesso Cerchiamo di fare un'altra partita Facciamo quest'ultima partita Quest'ultima partita E poi chiuderò il video E faremo delle altre partite La prossima volta Ahia C'è un corvo Questa cosa non mi piace Perché come sapete Anzi Come non sapete Io ho di corvo Di corvo esistente Nel pianeta Terra Che mi ha appena avvalorato Lo lascerò stare Per un po' C'è anche Shelly Che anche quella cosa La odio molto Quella La signorina Guarda corvo Mi sta seguendo Come uno stalker Perché secondo me Lui è proprio Fare come Secondo lavoro Lo stalker Come Secondo lavoro Perché il primo Il sicario Tosico Oh Quale maestria Shelly Non sa giocare Infatti Mi sono riuscito A ucciderla E vabbè Erano in tanti Ma sono riuscito Più o meno A sopravvivere E prendo Una coppa Quindi Io spero che per questo video Sia tutto Vi ringrazio tantissimo La visione E vi Vi dico Che se volete Seguire i miei video E vedere Rimanere aggiornati Potete attivare La campanella Vicino al testo Dell'iscrizione Quindi io vi saluto E addio ragazzi half D quali Aspire Aspire